Buongiorno a WTV News. Oggi 21 agosto è San Pio decimo papa ed è la giornata mondiale dell'imprenditore. Lo scopo di questa giornata è quella di creare consapevolezza sull'imprenditorialità, l'innovazione, la leadership e lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Un giorno per celebrare le persone che decidono di mettersi in proprio e fare impresa. Un giorno dedicato ai fondatori, ai pionieri, agli startupers, agli innovatori che ogni giorno lavorano duramente per creare progresso, ricchezza e benessere.